Celebriamo quelle eccellenze, quelle persone che comunque in maniera efficace portano la nostra città in auge, ribaltando un po' quelle che sono l'onta della cronaca nera se vogliamo. Questa è una rassigna che il professor Rosario Bianco porta avanti da tempo in modo meritorio perché ha saputo attraverso un format collaudato riscoprire quelle che sono veramente le eccellenze che stasera ce ne sono tante per la verità. Siamo tutti quelli che in qualche modo amiamo questa città e cerchiamo di fare la nostra parte quindi in questo senso eccellenze che siamo presenti cerchiamo di fare chiaramente il meglio, di dare il meglio di noi stessi con grande a volte fatica ma con grande passione, grande spirito di partecipazione.